Siamo nuovamente qui per il nostro appuntamento fisso mensile sulle prossime uscite originali disponibili su Netflix. Per Prime Video e Disney Plus dovrete attendere il prossimo video. Vi ricordo di mettere mi piace, iscrivervi al canale attivando la campanellina, commentare, condividere e infine la suddivisione di questo video nelle varie aree di interesse presente in descrizione. A proposito delle uscite Netflix, ve la siete vista la mia recensione sulla serie The Liberator? Questa serie è uscita questo novembre e per me merita una possibilità, ma per le info recuperate anche dal link in descrizione cosa ne penso? Intanto passiamo alle nuove uscite. Tra i film il primo è Monk, un film da cui ci si aspetta molto, girato da David Fincher e con Gary Oldman nei panni del produttore Herman Mankiewicz e Tom Burke nei panni di Orson Wells. Ripercorre la produzione travagliata in un periodo storico molto particolare di quello che fu poi uno dei film che fece la storia della cinematografia. Parlo di Quarto Potere, che vinse l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Sicuramente un film che non si può non guardare. Passo ad una commedia turca, Leila Everlasting, che segnalo perché, dal trailer, mi ha colpito enormemente per la sua demenzialità e assurdità, una probabile trasciata comica che si deve guardare. La trama è banalmente semplice, tra moglie e marito si mette in mezzo la terapista di coppia, ma soprattutto un manoscritto da recuperare. Date un'occhiata al trailer che è meglio. Finalmente un film italiano che non vedo l'ora di guardare. L'incredibile storia dell'Isola delle Rose parla di una storia vera avvenuta poco prima dello sbarco dell'uomo sulla luna. Il primo maggio 1968 nasce per mano dell'ingegnere Giorgio Rosa la micronazione Isola delle Rose ricavata da una piattaforma petrolifera dismessa e piazzata a meno di 12 km a largo della costa di Rimini in acque internazionali. Una storia che assume subito il contorno del grottesco, ma che però non va apposta nel dimenticatoio così in fretta. Trattando un altro argomento più spinoso arrivo a The Prom che parla dell'amore lesbico tra una liceale e una sua amica a cui viene vietato di andare al ballo scolastico assieme. A questo punto intervengono degli attori di Broadway non più di grido che con la loro eccentricità e per riacquistare notorietà vanno ad aiutare queste ragazze. Il vero punto di forza di questa commedia dai toni profondi è tutto nel cast stellare con Meryl Streep, Nicole Kidman e James Corden. Continuo quindi nella serie di argomenti socialmente impegnati con Ma Raines, Black Bottom, l'ultima opera di Chadwick Boseman, il Black Panther della Marvel prima della sua morte. La storia e l'adattamento cinematografico di un'opera teatrale di metà anni 80 parla di un gruppo di musicisti di Chicago che si dibattono tra loro tra problemi razziali e la voglia di diventare famosi. Infine eccoci pronti per un Natale fantascientifico con The Midnight Sky, un film che vede in duplice veste George Clooney sia come attore che come regista. Si tratta di un adattamento dal libro del 2016 Good Morning Midnight che parla del rientro sulla Terra di una missione umana a lungo termine. Uno scienziato in artide intercettando i tentativi di comunicazione degli astronauti con la Terra deve tentare di fermarli dall'atterrare. Infatti sulla Terra è avvenuta una catastrofe e loro sarebbero in pericolo rientrando. Buon Natale! In arrivo poi il primo dicembre una serie di film storici per non farsi mancare nulla. La combo dei Ghostbusters, Glory, I guerrieri della notte, La storia infinita 2 e passando l'animazione City Hunter, Private Eye, Voglio mangiare il tuo pancreas, L'autostrada dei pinguini e Teen Titans Go, il film. Quest'ultimo in arrivo però l'11 dicembre. Passo ora alle serie che questo mese sono tutte provenienti dall'Asia. Un netto segnale, come dico già da diversi mesi su Fantascientificas, che le cose stanno cambiando e non poco sugli influssi culturali che ci arrivano. Già che ci sono vi ricordo ancora di mettere mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividere questo video. Un grazie poi a tutti quelli che già ora supportano le mie attività sul web. Info su marcotadia.net sono quei piccoli gesti che fanno molto piacere. Passiamo però alla prima di queste serie, Private Leaves, serie sudcoreana meglio specificarlo visto che al nord magari non sarebbe futuristica, in cui si immagina una società del futuro in cui non esiste più la privacy e tutti i dati delle persone sono in mano alle società e al governo. I nostri protagonisti, un gruppo di truffatori, scopre casualmente questo progetto tra stato e aziende. Ora si trovano in mano il futuro di questo progetto e il destino delle persone. La successiva fermata asiatica è a Taiwan. Detention è una serie horror soprannaturale legata all'omonimo videogioco. Ambientata in una scuola degli anni 90, uno studente appena trasferitosi entra in un'area vietata dell'edificio scolastico. Lì incontra un fantasma che gli racconta fatti sconosciuti avvenuti tra quelle mura nei periodi precedenti ai 30 anni. Tra i temi toccati nelle varie storie ci sono ovviamente quelli della persecuzione legati alla censura e alla libertà di opinione. E arriviamo in Giappone con questo Alice in Borderland tratto dall'omonimo anime. Racconta la storia di ragazzi ossessionati da videogiochi che vengono catapultati in una Tokyo alternativa dove sono costretti per sopravvivere a giocare ad un assurdo o quanto spietato gioco di sopravvivenza. Un fine quello della sopravvivenza che porterà il protagonista a ricercare il significato della vita. Chiudiamo quindi il triangolo ritornando in Corea del Sud con questo Sweet Home, un altro dramma in stile horror che parla di come un giovane dopo la morte dei genitori in un incidente si trasferisca in un nuovo appartamento. La cosa particolare è che la sua vita tornata tranquilla viene sconvolta da una serie di incidenti che coinvolgono i suoi vicini che a turno si trasformano in mostri e tutti i residenti del condominio devono sopravvivere. Sicuramente un qualcosa di molto particolare. Sono previste infine diverse nuove stagioni come la quinta di Eye Zombie dall'1, la quarta di Big Mouths il 4, la settima di Agent of Shield il 5 e infine la quarta di Sabrina il 31. Concludo con due documentari che potrebbero essere interessanti. Il film della nostra infanzia va a ripercorrere quei film che tra gli anni 80 e 90 hanno lietato le nostre festività natalizie, andandone a scovare aneddoti e motivi per i quali sono diventati tanto iconici nel tempo. Questa è la seconda parte della serie. Il secondo è Mondi Alieni e si propone come obiettivo quello di analizzare come potrebbero essere la vita in altri sistemi extrasolari e di come si potrebbe evolvere. Giusto per senersi pronti ad un primo contatto poiché questo 2020 è stato già fin troppo avaro di sorprese. Con questo ho detto tutto sul dicembre di Netflix. Per la parte su Prime e Disney arriverà un video tra pochi giorni, ma solo se mettete mi piace a questo. Vi iscrivete al canale attivando la campanellina, commentate e condividete. Ok, vabbè, arriverà anche se non lo fate, però se lo fate mi fa piacere. Al prossimo video, ciao! Al prossimo video, ciao! Al prossimo video, ciao!